Prima uscita con delle caratteristiche inclusa, ora un po' di stretching di affermatico Una spiegazione per questo stretching di affermatico Ovviamente appunto è sempre per incrementare la profondità in appena e quindi elasticizzare meglio La trama, la cassa toracica, l'avere anche più quantità d'aria per compensare in profondità durante tutto Fatti male, è pronto per 100 metri Grazie a tutti